La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Allora, adesso è il momento del premio Eccellenza dell'anno Healthcare and Pharma Presidi Otomedici. The winner is, lo dico anch'io, dai, ci siamo. Il premio va a Otopharma. Otopharma, complimenti, eccoli. Complimenti ed ecco la motivazione, Eccellenza dell'anno Healthcare and Pharma Presidi Otomedici, per comprendere un network di più di 2600 farmacie convenzionate in tutta Italia, per la consolidata esperienza e la grande specializzazione nella produzione di apparecchi acustici su misura di alta qualità. Otopharma, eccoli, una squadra ampia, probabilmente... Buonasera, benvenuti. Buonasera, siete solo, insomma, esatto, non siete tutti probabilmente, però complimenti, siete tutti. Ok. Fate anche un passo in avanti, anche due volendo. Eccellenza dell'anno Healthcare and Pharma Presidi Otomedici. Otopharma. Siamo in compagnia del dottor Rino Bartolomucci, presidente di Otopharma. Buonasera, benvenuto. Buonasera a lei, sono qua ben lieto di partecipare a questo evento. Bene, benvenuto. Questa sera la vostra realtà ha ottenuto il riconoscimento nel settore dei presidi otomedici. Le chiedo un commento, anzitutto, a questa vittoria, a questo riconoscimento. Dunque, devo fare alcune precisazioni, se me lo consente. Innanzitutto, la distinzione fra costruttore di presidi medici e rivenditori di presidi otomedici. Noi siamo un'identità italiana radicata al sud che costruisce presidi medici personalizzati per il recupero delle facoltà uditive. Siamo gli unici costruttori di presidi personalizzati perché sono gli unici che riescono a compensare, a ottimizzare veramente le esigenze di un soggetto ipoacusico. Quindi la costruzione personalizzata, diretta dalla base e non su elementi precomposti, dà l'ottimizzazione del bisogno acustico del soggetto che ne ha necessità. Questa è la prima distinzione. Perché? Perché ci sono dei protocolli di legge da seguire. Cioè, un presidio medico otoacustico non può essere erogato, somministrato, fornito, venduto, se non c'è alla base una prescrizione di un medico che attua delle precise attività come quella dell'ispezione del condotto uditivo che è un atto medico che va riconosciuto soltanto e deputato solo a lui. E quindi attraverso l'ispezione, se non ci sono fattori che impediscono il prosiego, per esempio tappi di cerume, otiti o escrescenze dubbiose, praticamente dai nulla osta a un'altra figura che è il tecnico audiometrista che effettua l'audiometria. Dopodiché il medico, valutata l'autoscopia e valutata l'audiometria, si esprime con una diagnosi che può essere anche oggetto di prescrizione farmacologica oppure di una prescrizione in caso di deficit uditivo di un presidio medico otoacustico. Questa prescrizione come protocollo, quello che noi facciamo, va ai laboratori audioprotesici e viene costruita la protesi personalizzata per questo oggetto. Dopo che è stata costruita, viene elaborata attraverso un oreccio elettronico dedicato che ne collauda l'esistenza di adeguamento tra l'esame audiometrico e la curva di risposta di questo apparecchio acustico per vedere se combacia con la sua perdita. Attraverso questo tipo di collaudo, allora, viene fuori una certificazione di conformità. che è dovuta per legge e a questo punto si attribuisce a questa protesi un numero di matricola che identifica che quella protesi è di quel soggetto e di nessun altro. Quindi non esiste nessun tipo di protesi personalizzata, identificata come presidio medico che possa essere predisposta, se non organizzata, pre-costruita, pre-progettata personalmente per questo oggetto e non per altri. Perché dico questo? Perché normalmente le protesi sono rivendute in Italia da delle aziende che acquistano in stock e poi rivendono al soggetto, limitandosi a programmare le protesi direttamente in presenza del paziente, omettendo delle operazioni di protocollo come quella del collaudo e l'attribuzione di un numero di matricola e della certificazione di conformità. Questo che significa? Significa che si mette in discussione l'ottimizzazione della protesi acustica ed essendo la protesi acustica un presidio medico, ecco, se non è organizzato nel protocollo corretto, normativo nuoce alla salute del cittadino. E quindi noi che cosa vediamo? Vediamo che tanta gente insoddisfatta per le applicazioni autoprotensiche con questo tipo di atipico protocollo mentre il protocollo sanitario che fa riferimento a quello che ho descritto poc'anzi è tutt'altra cosa e la protesi acustica deve essere prescritta dal medico che osserva queste operazioni di indagine e di diagnosi. Ora, il successo è determinato semplicemente dalla percorrenza di questo tipo di protocollo corretto che avendo noi predisposto una fornitura e una collaborazione con oltre 3.500 farmacini italiane significa che noi abbiamo certezza che tutta l'elaborazione del nostro protocollo quindi la realizzazione personalizzata delle nostre protesi trova un'ottimizzazione eccezionale un gradimento molto forte da parte del paziente e che ovviamente è riportato anche dalle farmacie con le quali noi lavoriamo. Quindi la farmacia che è un grosso riferimento territoriale sanitario porta avanti ovviamente una credibilità delle nostre produzioni portate avanti con questa ottimizzazione e ci ha portato ovviamente all'ampliamento della nostra capacità produttiva e siamo arrivati ai grandi numeri. Ecco, questa è l'unica differenza ma sostanziale perché per essere un costruttore ovviamente bisogna possedere dei know-how, dei grossi attività di progettazione, di ricerca. Noi abbiamo sette brevetti attualmente che portati nel settore audio-votesico portano anche diciamo una grande opportunità sempre di miglioramento per la qualità delle produzioni che noi riusciamo a derogare. Uno tra questi brevetti è la teleaudiologia che siamo ovviamente onorati di fornire a tutte le farmacie italiane perché danno subito e immediato accesso alle cure ai pazienti che si rivolgono a loro per avere approfondimenti. Questo servizio medico noi lo offriamo gratuitamente, quindi a fronte di questa attività di prevenzione che facciamo le farmacie quindi mettiamo in condizione il paziente di accedere immediatamente alle cure capendo esattamente quello che è il problema vero e trovando poi delle soluzioni immediate. Questo abbatte ovviamente tutti i percorsi calvari delle pubbliche strutture che praticamente hanno tempi enormi per poter erogare una prestazione come questa. e questo permette ovviamente la velocizzazione delle attività anche di risultato e di attribuzione delle applicazioni protesiche cioè che non vanno ovviamente avanti per troppo tempo, troppe settimane. E tengo a dire questo perché nel settore della rivendita delle protesi non sempre si adotta il termine della correttezza perché si omettono alcuni passaggi fondamentali per la salute del paziente. Ecco, la vostra realtà è investita in tecnologia d'avanguardia riuscendo a sviluppare ampiamente la telemedicina. Avete anche creato una piattaforma apposita che si chiama Telepharma Medica. Le chiedo se ce la può descrivere. Allora, Telepharma Medica è un'estensione della telemedicina audiologica che abbiamo creato per dare il servizio alle farmacie per permettere l'accesso alle cure per quanto riguarda l'audiologia. Abbiamo estesa questa possibilità e abbiamo creato un complesso strumentale che si chiama Telepharma Medica dove è possibile erogare e somministrare a distanza la telecardiologia, la teleodontiatria, teleoftalmica, teledermatologia e abbiamo anche la teleaudiologia inclusa. Ma oltre questo abbiamo anche la possibilità a distanza di effettuare il controllo dei parametri vitali che permettono al medico a distanza di capire esattamente la situazione in quel momento del paziente e prendere ovviamente le decisioni mediche, terapeutiche più importanti in quel preciso istante. Ovviamente questo facilita l'accesso immediato alle cure perché un paziente che ha bisogno di interfacciarsi immediatamente con un medico di riferimento si mette in contatto in tempo reale con i nostri medici e quindi riceve immediatamente la cura. Il tutto viaggio su una piattaforma certificata è accompagnata da una tessera sanitaria, chiamiamolo così, di una card salute che permette al cittadino in farmacia di guadagnare dei punti per cui alla fine magari la visita che costerebbe 39 euro al cittadino magari viene anche assorbita dei punti che vengono immessi in questa card salute con gli acquisti che farà in farmacia. Questo è un fatto molto significativo perché adesso con questo tipo di servizio la farmacia diventa veramente un baluardo sanitario della sanità di prossimità e quindi diventa un'interfaccia tra un presidio sanitario e magari un pronto soccorso. Però la sua funzione accresce ovviamente la sua opera sul territorio. Che cosa significa? Che uno strumento del genere potrà trovare sicuramente beneficio in località remote dove magari il medico non c'è, c'è difficoltà a recepirlo, come sulle navi per esempio. Esiste il defibrillatore con un complesso strumentale come telepharma medica che si ha l'accesso immediatamente ai vari medici di riferimento, come possono essere l'armi militari, distaccamenti militari, come comunità molto remote, paesi che hanno bisogno e necessità di accedere alle cure come i bambini del Belin per esempio o come altre situazioni che esistono nel mondo. Quindi voglio dire che uno strumento del genere può risolvere diverse situazioni e siamo veramente lieti di averlo creato, ipotizzato e progettato e realizzato nella nostra metropoli in partenopea. Siamo ora in compagnia della dottoressa Giovanna Incarnato, CEO and founder sempre di Otto Pharma. Buonasera, benvenuta anche a lei. Buonasera. Ecco, Otto Pharma possiede anche una rete di circa 3.000 farmacie convenzionate. Quali sono i vantaggi che questa rete offre al paziente e anche alle farmacie stesse? Il vantaggio principale è che essendo la farmacia un baluardo di quello che è riconosciuto sul territorio dal cittadino, come esempio, possibilità e volontà soprattutto di offrire qualsiasi tipo di servizio, Otto Pharma in questi servizi della farmacia. Quindi essere presente all'interno delle farmacie permette di essere molto estesi sul territorio, più vicino al cittadino, anche perché per Otto Pharma l'elemento fondamentale è essere proprio vicino al cittadino ed essere e divulgare e diffondere quella che è la prevenzione dell'udito. Quali sono i vostri progetti e obiettivi per il futuro? Abbiamo tantissimi progetti, non posso liberarli tutti, però veramente siamo un'azienda tecnologicamente innovativa, dove hai una grande proiezione nel futuro, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di intervenire sul territorio, quindi attraverso le farmacie, con una grande innovazione. In questo momento uno che posso dire è il totem, ossia uno strumento, un omino, che noi lo chiamiamo il nostro esercito bianco, che sarà all'interno delle farmacie e potrà effettuare una prevenzione, quindi dell'udito, istantaneamente e molto veloce. Quindi alla portata di tutti sarà all'interno delle farmacie e con una semplice monetina di un euro si potrà fare un autotest, ossia un test che permette di attraverso poche frequenze di capire, capatare, se ci dovesse essere una ipocusia o comunque una problematica, che poi attraverso un tagliandino che esce si può rivolgere direttamente al farmacista e quindi approfondire eventualmente la propria problematica. Questo cosa vuol dire? Che si ha subito, in qualsiasi momento, e senza l'intervento di nessuno, la misurazione del proprio dito, quindi un autotest. E questo per noi è una delle prime innovazioni che troveremo prossimamente diffuse su tutto il territorio, alle 3.000 farmacie che parlavamo proprio prima. E oltretutto abbiamo anche, come abbiamo iniziato con la teleaudiologia, essendo i primi in Europa ad avere la teleaudiologia, sicuramente con le altre innovazioni, che non posso qua dirle tutte perché ci vorrebbe un po' di tempo o anche perché sono ancora un poco segrete, praticamente sicuramente saremo al passo coi tempi, se non anticipare il futuro.